Tornano a colpire i banditi che assaltano i distributori di carburante. Questa volta però non sembrano esserci analogie con quelli avvenuti in precedenza in tutta la provincia. Questa volta siamo a Gabice, in via Romagna, lungo l'Adriatica, e il distributore è quello della Tamoil. L'oggetto del desiderio però è il medesimo, ovvero le cassette di sicurezza all'interno degli accettatori di banconote automatici. Anche la tempistica è la stessa, nella notte tra domenica e lunedì, in cui si registra l'incasso massimo e l'orario passate le due e mezza di notte. Ciò che sembra invece sostanzialmente diverso è il modus operandi della banda. Niente gruppo d'assalto di quattro o più soggetti, niente blocchi stradali a monte e a valle, niente ruspa da cantiere che devasta in pochi secondi le colonnine e fa scempio delle strutture del distributore. Qui le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno registrato due figure vestite di scuro ed incappucciate a girarsi nel distributore con fare circospetto. Gli ha anche notati un'automobilista di passaggio che ha capito l'antifona e ha chiamato il 112, che ha mandato sul posto immediatamente due pattuglie che hanno perlustrato la zona per oltre un'ora. Altra anomalia, un furto o presunto tale in due tempi. Sì perché la prima volta che hanno scassinato le colonnine è scattato l'allarme, senza però che il titolare della pompa di benzina se ne accorgesse. Così i ladri, fino all'arrivo delle gazzelle dei carabinieri, hanno potuto armeggiare liberamente. Una volta però calmate le acque e andati via i carabinieri, hanno messo in atto il secondo tentativo. Indisturbati questa volta, essendo l'allarme già scattato. Ma anche il secondo tentativo probabilmente non sono riusciti a portarlo a termine. Forse disturbati dai passaggi successivi della pattuglia dei carabinieri, che con la loro esperienza hanno capito che i conti non tornavano e sono rimasti in zona quasi per tutta la notte. I danni alle strutture sono evidenti. I segni del passaggio dei ladri ci sono, ma quantificare al momento il bottino non è stato possibile perché la cassetta di sicurezza sembra intatta, ma i metodi per impossessarsi del contante da parte dei malviventi sono diversi. Il più comune è quello della paletta con il nastro biadesivo, che si introduce nella fessura e con un po' di mestiere, un po' alla volta, si asportano via via le banconote, come è avvenuto al distributore di Bellocchi lo scorso anno. Ora le immagini delle telecamere sono al vaglio del nucleo investigativo dei carabinieri che sta procedendo con le indagini.